Ciao! Maria! Maria, eccoci! Maria, grazie! Grazie. Guarda, con gli ombrelli venite. È guerra, eh? Guerra di pietà. Che palazzo. Ma sta arrivando. Umberto, chi manca all'appello? Perché sono scesi con gli ombrelli. Oppure D'Alessio, D'Adangelo, Cucinotto pure. Umberto. No, la signora ti ha chiesto come ti chiamavi. Come ti chiamavi? Il cognome com'è? Pizzi. 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 Non ci sono. Non riesco a fare un'immagine pulita di questa ombrella? Poi quando arriva, se no ci cacciano tutti, se ce la fai rimetterti dietro. Come no.